Sì, l'Ector in Fabola è un evento straordinariamente importante che chiude un po' la nostra estate, che è stata un'estate ricca di eventi con notevoli successi. Sono convinto che questo sarà un altro degli eventi assolutamente di punta, con tantissimi incontri, con tanti personaggi, con una grande occasione di confronto. Questa è la cosa meravigliosa di l'Ector in Fabola. Abbiamo bisogno tutti di confrontarci sui temi, abbiamo bisogno di affrontarli con calma, con serenità, con l'approccio giusto e chi ci dà la soddisfazione di venirci a trovare in quei giorni potrà notare quello che è il clima che si crea durante l'Ector in Fabola. Io ringrazio tantissimo la Fondazione Di Vagno perché c'è uno studio, c'è una grande voglia di partecipazione e di discussione di temi importanti. Sì, Conversano da tempo ha deciso di investire sulla cultura, facendo un ragionamento, il ragionamento è provare a far crescere proprio una coscienza popolare, che sia sempre più matura e più pronta ad affrontare un futuro con civiltà, con maggiore attenzione, provando a ricercare l'armonia. I fatti, gli eventi culturali diventano fondamentali a livello di strategia.